Sono Cecilia Maldaloni, interpreto all'interno di Rovè e Giulietta l'amore eterio, che è uno dei concetti astratti che riporteremo nell'opera sabato. Faccio danza da quando avevo 4 anni e adesso ero 23. Sempre con Seriana? Sempre con Seriana, è stato il mio unico amore e è come una famiglia. Io purtroppo non studio qua, studia a Napoli, però appena posso... Tu sei un neo-ingegnere, no? Sì. Come si coniuga il tecnicismo dell'ingegneria con... È un amore la danza, si colloca benissimo, perché è proprio tutto quanto un'altra cosa, un altro tipo di amore, che è nato appunto quando avevo 4 anni. Quindi si colloca benissimo, anche se i miei studi sono totalmente diversi, anza, proprio questo è bello, cioè che i miei studi trattano tutto di altro, invece torno qui e sono praticamente... La difficoltà del personaggio se c'è stato, perché mi dicevi di un'idea, rendere un'idea... Mettere un'idea all'interno di un'opera come Roma e Giulietta non è semplice, spero di riuscire con questo, spero di riuscire nel miglior modo possibile. Era la stessa tua parte nella prima messa in scena? Diciamo che era anche quella, però in realtà anche lì era più un'amicizia tra me e Giulietta, diciamo che in quest'altra opera si è ancora di più ampliato il concetto di amore eterio attraverso appunto la rappresentazione... Io allora ti ho visto e quindi avevi reso il concetto, grazie. Grazie.